Il fuoco fa paura, ma un esercito di volontari è pronto a contrastarlo. E così è stato anche questa notte, quando il fuoco è tornato a bruciare i boschi biellesi. L'incendio si è sviluppato nel territorio di Donato, nella località dell'Alpe Cavanna. L'allarme immediatamente ha portato sul luogo sette squadre dell'antincendio boschivi, i vigili del fuoco, che da subito si sono messi all'opera per fronteggiare il rogo ed impedirgli di propagarsi. Il periodo invernale è da sempre molto pericoloso, poiché l'aria secca e la conformazione geografica del territorio favoriscono l'innesco e il propagarsi degli incendi negli ambienti boschivi. L'asso nella manica per contenere questi eventi è proprio rappresentato dal Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte, che con oltre 5.000 volontari organizzati in 217 squadre, è perfettamente addestrato nella gestione di tutte le fasi della lotta agli incendi. Un impegno importante che ha permesso di contenere moltissimo i danni che gli incendi possono causare. Il lavoro assiduo e tenace del sistema operativo attraverso le squadre del Corpo IB e dei vigili del fuoco impegnati nella lotta a terra ha ridotto al minimo l'intervento dell'elicottero regionale.